Ovviamente di Youssef Malè, vorrei raccontare un pochino il cammino di Youssef e come Youssef arriva alla Fiorentina. Allora, la persona che è il nostro direttore del settore giovanile, Valentino Angeloni, che ha fatto un paio di anni fa il direttore sportivo nel Venezia, quando abbiamo preso nell'area scouting a Valentino, Valentino è stata la persona che ha segnalato immediatamente Youssef. L'abbiamo seguito, l'abbiamo seguito in una partita particolare dove ho ricordato a Youssef qual è il più bel gol che ti hai fatto con il sinistro in una partita di nazionale, dove ho fatto una bellissima rete con l'Unda 21. Ci siamo attivati immediatamente a gennaio con la nostra reelezione con un'altra proprietà americana e abbiamo portato a casa Youssef. Youssef poi l'abbiamo lasciato lì a Venezia dove ha giocato, è stata una persona molto chiave per l'arrivo di Venezia in Serie A.